Guido Guidesi, come risponde al Sindaco di Roma? Le dichiarazioni del Sindaco di Roma si commentano da solo e non credo che abbiano bisogno di risposta. Io penso che se il Sindaco di Roma ha intenzione di amministrare come fa le dichiarazioni a mezzo stampa, credo che questa città abbia un problema in più. Le dichiarazioni del Sindaco di Roma vanno al di là di qualsiasi interpretazione dal punto di vista amministrativo. Credo che sia opportuno che tutta la maggioranza comunale di Roma avvisi urgentemente i servizi sociali. Lui ha detto che lunedì bloccherà il trasporto pubblico. Ma non mi sembra che il trasporto pubblico funzioni a Roma, per cui non credo sia un problema bloccarlo da parte sua. Ma al di là delle battute, credo che le dichiarazioni del Sindaco dimostrano che la città ha un urgente bisogno di un commissario ad hoc, al di là delle esigenze dal punto di vista economico e dal punto di vista della riformulazione di tutti i bilanci comunali e di tutte le partecipate del Comune di Roma. La città ne ha estremamente bisogno perché questo Sindaco oggi, in un'ora, ha dimostrato di non essere in grado di amministrare una città come questa. Mi sembra innanzitutto inadeguato, inadeguato anche fare il Sindaco a questo punto qua, perché si deve sempre ricattare per quanto riguarda mettere in campo addirittura la fede, perché si sta delineando la proclamazione di due santi, papi. Mi sembra una cosa veramente riduttiva e riduttiva anche rispetto ai romani stessi. Credo che Marino, se non è, se è incapace di fare il Sindaco, torni a fare la sua professione di medico, sembra che ne sia capace di fare questo, però, voglio dire, sapeva benissimo quando si è candidato al Sindaco cosa andava incontro e quali erano le problematiche della città. Si è proposto di risolverle, adesso non le sa risolverle e allora batte i pugni sul tavolo andando a chiedere a destra e a sinistra di aiutarlo, di dare i soldi, troppo comodo, troppo semplice. Voglio dire perché si metta le mani attorno ai fianchi e cominci a lavorare, non andare in bicicletta e a fare semplicemente la gaggiara o ad essere simpatico alla gente o a usare il marketing della benevolenza. Non è così che si amministra. Io credo che Marino si debba impegnare per ciò che ha promesso ai romani. Che se lui blocca il trasporto pubblico non serve che si dimetta da solo, verranno i romani a buttarlo fuori dalla finestra e se lui dice senza Salvaroma non saranno pulite le scuole, allora gli dico benvenuto nel paese normale. Nel resto del mondo, soprattutto al nord, in Padania, funziona così purtroppo da anni ma a Roma siete stati troppo abituati bene con i soldi degli altri. A Marino rispondiamo che chi ha fatto i debiti deve anche pagarli. Non è possibile continuare a far gravare sulle spalle di tutti i cittadini una mala amministrazione come quella che c'è stata nel corso degli anni per il Comune di Roma. Quindi siamo più che mai soddisfatti per avere bloccato per la seconda volta questo vergognoso decreto e siamo più che mai convinti che i debiti del Comune di Roma debbano essere fatti pagare ai cittadini romani e non a tutti i cittadini. Io commento che se la prenda con se stesso, con le amministrazioni precedenti che hanno fatto scempio delle risorse pubbliche con sprechi assolutamente intollerabili ed è giusto che a questi sprechi, a queste clientele, a queste impunità, a queste irresponsabilità nella gestione della città di Roma si ponga un fine, un termine una volta per tutte. E rispondiamo a Marino che se vuole fare una manifestazione contro la Lega e contro chi ha osteggiato il Salvaroma noi ne faremo una dieci volte più grande in un Comune del Nord a ribadire che le regole devono valere per tutti.